Amici appassionati di football manager buonasera sono Senix e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video Prima di cominciare ragazzi mi raccomando una bella iscrizione perché siamo vicinissimi al traguardo dei 1000 iscritti Proprio lo stiamo per sfiorare quindi mi raccomando un'iscrizione, un bel like, anche una condivisione che non fa mai male come ben sappiamo Oggi ragazzi un episodio sarà molto molto complicato nonostante nelle ultime partite stiamo andando abbastanza bene Stiamo vedendo un sprizzi e sprazzi soprattutto di bel gioco perché nelle ultime partite abbiamo vinto per 1-0 contro il Gubbio Anche quella è una partita abbastanza proibitiva oltretutto in trasferta 1-1 contro il Limonese e poi abbiamo perso 3-1 contro la Trestina Nonostante avessimo non dico dominato però giocato abbastanza bene Oggi andremo a vedere Perugia, Padova e Modena con il Perugia che è già qui in sovraimpressione e prima in campionato Mentre il Padova è terza e il Modena è ottava quindi sarà un episodio molto 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 complicato ragazzi Come tutti gli episodi che verranno da qui a seguire Allora intanto ci iniziamo ad avvicinare verso la partita contro il Perugia Una partita dove non ci aspettiamo molto sinceramente dove qualsiasi risultato lo accetteremo Perché contro la prima non possiamo fare molto, non sono queste le partite che dobbiamo andare a vincere Però cercheremo come sempre di far vedere il nostro bel gioco Abbiamo cambiato modulo, abbiamo cambiato anche un po' le istruzioni tattiche Al fine di rendere la squadra un po' più bilanciata rispetto a prima Che era forse un po' troppo offensiva per quelle che erano poi le nostre caratteristiche Quindi detto questo ragazzi mancano quattro giorni Io mi avvierei direttamente alla partita contro il Perugia E ci vediamo per le formazioni Ed eccoci qua pronti per questa sfida quasi impossibile Infatti andremo ad esordire con una mentalità difensiva Per la prima volta forse nella nostra storia Poi la formazione è quella classica Tonti, Shiba, Cidai, Marchi e Perri, Fiorani Che mi avete consigliato di mettere sempre Perché diventerà una sorta di fenomeno del calcio mondiale E Bonolis, Papa, Sestu, Costalter e Khalil lì davanti Quindi confermiamo la formazione Come detto non è una partita dove riponiamo molte speranze Vista la potenza e la forza del Perugia Però non si sa mai nel calcio Mai, poi è mai E poi per quanto riguarda noi è mai Allora agitiamo le braccia, punta il dito Siamo da svegliere lo sfavorito per cui non ci sono pressioni su di voi Esatto, esatto Giochiamocela proprio Scialla Molto relax E infatti c'è subito il Perugia in avanti Ma attenzione perché riconquistiamo palla Con Costalter che la butta in avanti Però alla cieca Khalil non può arrivare sul pallone E ripartono gli Umbri Sonas Il lancio per Elia E c'è subito il gol 1-0 dopo 4 minuti E si va a A presentare già da adesso Lo spettro della goleata Come al solito Mamma mia Vabbè questo è un episodio difficile Lo sapevamo Contro la prima Contro la terza E contro l'ottava Non è È proprio la cosa più semplice del mondo Sonas ancora Ora Oh che poi È incredibile Come ogni tiro Della CPU Vada a finire in rete Vabbè 9 minuti 2-0 Che bello Che bello Che bello Che bello Come vedete Scendere in campo Con una mentalità difensiva Alla fine dei conti Non cambia nulla Ti puoi difendere come vuoi Ma Ti vanno sempre a segnare uguale Quindi tanto vale Questo è quello che dico sempre Tanto vale Andarcela A giocare In attacco Perlomeno O perdiamo 8-0 O perdiamo 5-0 A noi poi Poco ci cambia Effettivamente No L'expected goal È 0-48 In realtà Stanno facendo Anche di più Di quello Che avrebbero dovuto raccogliere Ma Purtroppo Siamo sempre sfortunati Vabbè 2-0 Primo tempo Vediamo se finisce così Il Modena sta vincendo 1-0 Che sarà la nostra prossima avversaria Lancia la bottiglia Avete fatto pena Poi non c'è mai Un'azione Importante Da parte nostra Non c'è mai nulla Non riusciamo Vediamo Una Un tiro Fatemelo vedere Ma anche per niente Ma non Non ne devi parlare Proprio È fuori discussione G-Dai Però attenzione Bonolis Papa Il lancio Verso Galille Che è troppo isolato Lì davanti Come vedete Non Non può far molto Ovviamente Il buon Gaetanuzzo Elia Ancora il Perugia La ricerca del Gol Che andrebbe definitivamente A chiudere questo match Anche se in realtà Non è mai stato aperto Shiba Forse una reazione D'orgoglio Da parte del Perugia Fiorani La smista Per Papa Khalil Cosalterci Di prova Di prova Giro Bel tiro Che però È troppo largo Alla sinistra Del portiere Fulignati Aleandro Rosi Filippo Sgarbi Quan Insomma Nomi importanti Per questo Perugia Che fino A poco tempo fa Bazzicava In Serie B E oggi Ragazzi È la La killer Della Della Serie C Per il momento Allora Andiamo a fare i nostri Classici cambi Visto che siamo Alla 68esimo Abbiamo tantissimi Ammuniti Quindi io direi Che possiamo andare A mettere Dunque Martignago Per Cosalter Assolutamente Sì Poi Vanacore Per Perri E Bonolis Mettiamolo Al posto Di Franchini Confermiamo Le sostituzioni Però Già perdere 2-0 solo Contro il Perugia È come se fosse Una sorta Di vittoria No Non andare a subire Sei gol È già una notizia Infatti c'è Melchiorri Che per l'appunto Come al solito Va a smentire Subito Ciò che Che dico E va a fare Il 3-0 Quando mancano 20 minuti Alla fine della partita Eh sì Procediamo con i cambiamenti Tattici È difficile Ragazzi È difficile Che vedo di È difficile È difficile 78-80 Andiamo a fare Le ultime sostituzioni Che restano Franchini Anche lui Già ammonito Io metterei Allora Per Fiorani Non c'è nessuno Che può andarlo a fare Metterei Dunque Mokulu Assolutamente Sì Per Khalil Alessio Sestu Mettiamo Mettiamo Marco Meli Proviamolo lì Sulla Sulla destra 0-18 Proprio noi Inesistenti Come Esattamente come Ci aspettavamo 5-8 per Ciba Che ha giocato Non una partita Da ricordare Assolutamente Puntiamo il dito Bella prova Dai Tralacendo il risultato Bella prova Non era una partita Dove avevamo Alcuna speranza Di poter racimolare Un risultato E lo stesso discorso Purtroppo Varrà Contro il Padova Addirittura Siamo in trasferta Un Padova Terzo In classifica Anzi adesso Addirittura Secondo 62 punti Si sta giocando Proprio la Serie B Insieme al Perugia E non vedo Come noi Potremmo mai Fermare la compagine Padovana Sinceramente Io aspetto Con ansia Che arrivino Partite un po' Più alla nostra portata Per uscire Da questa zona Playout In cui siamo stati Risucchiati Senza Aver modo Di uscirne Quindi ragazzi Ora Questo episodio Sarà così L'episodio contro Le grandi Forse 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 Contro il Modena Potremmo andare A sperare In un pareggio Ma forse Ma non è neanche sicuro Anzi Io se dovessi Scommettere Scommetterei Sulla vittoria Dei Canarini Però Resta il fatto Che è l'unica partita Dove possiamo Corre qualche minima Speranza Allora Visto che mancano Anche qua Quattro giorni Contro il Padova Andiamo avanti Questa Ce la giocheremo Con una mentalità Offensiva Probabilmente Con la nostra mentalità Ragazzi Perché tanto Abbiamo visto Che anche Difensiva Ultradifensiva Quello che volete Non cambia nulla Andiamo lo stesso Subire gol Senza Aver poi La possibilità Di offendere A questo punto Ce la giochiamo Direttamente In attacco Per lo meno Ci divertiamo anche noi Potremmo andare A fare anche un tiro Per esempio No Invece Di subire gol E basta Ed eccola qua La formazione Che è assolutamente Quella titolare Quella classica Con il solo Vanacore Che va a sostituire Perri Che era Squalificato Poi restiamo così La mentalità L'abbiamo su positiva Stavolta Kalil Sesto Sempre lì davanti Vediamo che succede Contro un Padova Che non Ci lascia scampo Per lo meno I bookmakers Non ci danno scampo La sconfitta Sembra essere L'unico risultato Possibile Ed immaginabile Quindi Mani congiunte Andate in campo E divertitevi Tutti sono motivati Ma sappiamo bene Che la loro motivazione Se la possono Sbattere lì Oh Vediamo che succede Oh Già 8 minuti 0-0 Eh Questa è già Una notizia E calla 11 minuti Vanacore Però siamo In possesso Palla Per l'appunto Come non detto Beretta Milligo Avanza lui Avanza sempre lui Imprendibile Milligo Attenzione Non famo fallo Fazzi Ma Esattamente No Ora io voglio dire Va bene il gol è tutto Ma Tonti Che cosa guarda Durante la partita Cioè lì bastava Anche alzare Il braccio Sapete quando passa L'autobus Fate col braccio L'avrebbe parata Se avesse alzato Quel braccio Ma che stava guardando Esattamente Tonti In quel Forse c'era la nonna Dall'altro lato Della Degli spalti Che lo chiamava Non si sa Perché era Abbastanza semplice Vabbè Del resto è Tonti Ragazzi Non Potremmo aspettarci Niente di diverso Alessio VI Shiba Ha spazio per avanzare Si deve fermare Deve aspettare L'aiuto dei compagni Trova il buon Papa Fiorani Niente Non c'è possibilità Siamo qui a raccontarci Bugie Tonti Ragazzi Ha fatto qualcosa E non Non è lui Non è lui Bonolis Attenzione Il controbietro Però potremmo andare a segnare Con Alessio VI Attenzione Sesto Spazio Spazio Sesto Ma ovviamente Ma figurati Se i nostri tiri Possono mai andare in porta Ma mai Mai nella vita Niente da fare 2-0 Era contro il Perugia E 2-0 E ora Contro il Padova Esattamente Lancia Dai Veramente Inguardabile Ragazzi Non mi fate di che Va bene lo stesso Siete stati bravi Ugualmente No Manco per niente Perché Tonti Ma posso di qualcosa Tonti Scusate Allora Dunque 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 Rimprovera Singoli Tonti Posso rimproverarlo O soffende Tonti O si mette a piangere Non lo so Questo era fuori gioco Di un chilometro Immagino Infatti Signor Guardalini Diamo le prime Alle segnalazioni Ancora Tonti Bravo Ha fatto un passaggio Perfetto Mamma mia Ma che squadra De disperati Che ci abbiamo Ragazzi Ora No Era Grazie a Dio Un gol Che Avrebbe cambiato poco Però Vi fa capire In che stato Dobbiamo lavorare Purtroppo Allora Vabbè Dunque Io metterei Il buon Franchini Per sesto Poi Mogulu Per Khalil Posso cambiare Voglio cambiare Pure Tonti Ragazzi Mi dispiace Mettiamo Raspa Non è un Un cambio Che Si farebbe Nella realtà Però Non ce la faccio più Non me lo fate più vedere Almeno per oggi Non me lo fate vedere E poi Martignago Per Costalter E confermiamo La sostituzione Lo avevamo detto Sarebbe stato Un episodio difficile Dove Probabilmente Non andremo a fare Neanche un punto Vista Le forze Delle nostre Avversarie E ci sta E qua c'è anche Il 4-0 Di Aristoteles Romero Ci stanno Shiba Già il secondo Niente Shiba ragazzi Non vuole più giocare Ho capito Mettiamo Dunque Mettiamo Vanacore Da questo lato E poi Zanoni Da questo Abbiamo capito Che Shiba Non è in In un momento Di grazia E quindi È meglio Se lo leviamo E se va fuori Dalle palline Ancora qua Shiba Ma non l'avevo tolto Perché Che fa Occupazione Shiba Che sta a fare Papa Però buono Due partite Zero dire Abbiamo visto Mette fiducia Fiorani Allarga Ancora per Shiba Bolis Franchini No Non so che dire Cambiava poco Però Almeno un gol Gidai Martignaco Franchini Marchi Ma neanche Ma neanche Davanti al portiere Che sdraiato Riusciamo a segnare Ragazzi Mamma mia Maggi dalle braccia Abbiamo Basta Abbiamo bisogno De qua Lo spirito santo Ci può aiutare All'urdo Ora ce l'andiamo Tutti quanti Il portiere Raspa Debutta Però Raspa Non ha subito Neanche un gol Quasi 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 Possiamo Andare Ad attuare Adesso Una rivoluzione Contro il Modena Perché no Perché tanto Come vedete I titolari Tra virgolette Stanno a fare Un macello Dietro l'altro Quindi Non vedo Il perché Non si possa Dar fiducia Al giovane Raspa Che Perlomeno Avrà Statistiche Inferiori Ma ha molto Più cuore Molta più Voglia Di Mettersi In mostra Quindi Potremmo andare A provare Qualche Qualche Nome Nuovo Convochiamo Una riunione Di spogliatoio Sì Tanto Quando Andiamo a fare Il solito Macello Allora Siamo andati Bene Di recente Ma dove Esattamente Voglio Assicurarmi Che non si Scorreggiamo Le cose Non sono andate Bene Ma abbiamo Oh bravo Abbiamo le capacità Per cambiare Rotta Saluta Con la mano Questo è esattamente Il tipo di reazione Che mi aspettavo Oh Perlomeno Aumentiamo un po' Il morale Che ora come ora Sarà sotto i tacchi Anzi Anche più in basso Anzi ve lo faccio vedere subito Infatti L'affidamento è basso L'atmosfera Devo dire Che è anche abbastanza buona Così come il nostro sostegno Dalla nostra parte E ragazzi Purtroppo Lo devo Vabbè Queste erano Risultati che ci potevano stare Purtroppo A football manager Più perdi Più il morale E l'affidamento Dello spogliatoio Della squadra Si abbassa Senza motivo Quindi Dobbiamo essere bravi A cercare di tenere Il morale alto Con i nostri discorsi Con le riunioni Spogliatoio Insomma Dobbiamo cercare di Di non entrare In quel tunnel Che Non Non ci andrebbe A facilitare le cose Sicuramente Allora Arriviamo intanto Alla partita contro il Modena Andiamo subito a mettere Il buon Raspa Il primo di tutti Perché Veramente Tonti Ragazzi È un qualcosa Di inguardabile Non credo che Neanche A football manager 2020 Dove di portieri Pippe Ne abbiamo avute Nonostante I nomi importanti Però Ragazzi Ma Tonti Li batte tutti Ma di lunga Alla gran lunga Le va a battere Allora Papa è infortunato No Papa Chi è Bonolis Grazie a Dio Mettiamo Franchini Quindi Lo leviamo Poi Shiba Si va a fare Un giro Da qualche parte Perché È diventato Impossibile Vanagora Lo spostiamo A destra E Shiba Lo mettiamo Al posto Di Zanoni Ecco Via Via Un po' Di Un po' Di gente Poi Lì davanti Leviamo A Khalil Che In due partite Forse Non ha visto Neanche il pallone Ancora E quindi È Martignaco Per Coastal Terra Sestu È l'unico uomo Lì davanti Che abbiamo Come vedete Aspetta Perché non me l'ha salvata Ecco perché Ecco perché Ma io avevo messo Di concentrare il gioco Sulle fasce Però non me l'ha salvato È molto Il gioco è molto umano Devo dire anche Perfetto Va bene ragazzi Abbiamo rifatto Le nostre impostazioni Tattiche Ma si è salvato Sì Adesso sì Ok Adesso sì Ok Confermiamo la formazione E vediamo Manca un sostituto E metti a perri Va che un terzino sinistro Può sempre servire Lo metti Lo metti Gioccom Lo metti Grazie Confermiamo la formazione E andiamo avanti Zanoni non è in forma Vabbè Non credo che possa andare A fare la differenza Sinceramente Caro gioco Ha preso il tuo ottimismo Allora Agita le braccia Mi aspetto che vinciate Potremmo uscire Dalla zona delle processioni Oggi Qualora voi Andaste a vincere Siamo in casa Contro comunque Un Modena Che è ottavo Certo non è Una schiaccia sassi Anche un pareggio Ma non dico una vittoria Perché Per carità di Dio Non voglio chiedere troppo Ma Un pareggino Eh Tanto per Ah abbiamo fatto un punto Niente Sempre il Modena Adesso In possesso palla Con Mattioli Anche se in zona D'attacco nostra Franchini Bravo Marchi A recuperare palla Zanoni La larga per Franchini Martignago Avanza lui Avanza Martignago Alessio Sesto Papa Bravissimo L'imbucata per Vanagore Che può metterle in mezzo Mokulu Oh E ci voleva tanto E che cazzarola Alleluia Che accendo un cero A Sant'Antonio Che dove fa Eh porca miseria Questa sì Grande Papa Come vede Panagore Che la mette poi in mezzo Mokulu Di testa Non può nulla Il portiere Che anche qui Non è sembrato Proprio impeccabile Ah Tre tiri Già abbiamo fatto Uno ancora solo Per il Modena Dai Dai Con una bella vittoria Ci potremmo portare Fuori dal Dal Pantano Che è la zona playoff Ma ovviamente C'è Bamba Dalla banderina Oh Meno male Per Greffi La butta fuori Almeno il primo tempo 1-0 Ci possiamo No niente Non Mamma Perché Sempre le stesse cose Sempre le stesse cose Sempre i gol Al 45esimo Ragazzi Lo sapevo Che sarebbe successo Era proprio scritto Nel Nel codice di gioco C'è scritto Che il L'avversario Deve sempre segnare Al 44esimo Vabbè Spogliatoio Mani sui fianchi Avanti Così ragazzi Dai Comunichiamo Incoraggiamoli Squadra intera Sei tiri Ha fatto il Modena Però noi 7-4 Importa Quindi siamo stati Più precisi E c'entra il bersaglio Poi ovviamente La palla non è entrata Manco Manca ammazzata Allora Gidai Attenzione Fiorani Vediamo se riusciamo A rubare questi Tre punti Martignaco Sulla sinistra Bravissimo Zanoni Vede la sovrapposizione Zanoni Può metterle Metto Zanoni 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 Si scorda la palla Riesce Niente Zanoni Zanoni non c'è più Zanoni deve essere cambiato Zanoni deve essere cambiato Ma riconquistiamo intanto palla Con Fiorani Il lancio per Martignaco Spazio Mokulù Mokulù Mamma mia Martignaco Mokulù Oggi stanno a far vedere i sorci Verdi Al Modena Che Risubisce gol E scende Di nuovo sotto Guardate che apertura Qua di Fiorani Che vede Martignaco Qua Se lo perde Gerli La marcatura Mokulù È praticamente solo Non deve far altro che Metterla Alle spalle Di Gagno Ora ragazzi Per una volta Nella nostra vita Possiamo tenere Un risultato Dunque L'abbio detto Zanoni che è veramente Veramente stanco Mettiamo Perry Assolutamente sì Vanacore Possiamo Metter Shiba Direte voi Per 20 minuti Che danni può fare In 20 minuti Shiba Ragazzi Che danni volete che faccia E poi direi Poi direi Marozzi Per Sesto Ok Confermiamo E andiamo Avanti Un 3 a 1 Dai prego Così almeno Sto un po' più rilassato Non mi stresso troppo Eh Scappini No non è D'accordo Scappini Potogriano Scappini Bravi Vai Sesto L'allarga per Martignaco Che oggi veramente In giornata top Ma Riconquistano palla I giocatori del Modena Potogriano Vabbè Magari Questa era una cafonata Una cafonata De tiro Ragazzi Dai Manca Un quarto d'ora Mi avete detto Di non Dare Però Perdere tempo Posso A volte A volte Dai Metto a volte Senza spesso Ogni tanto Una perdita di tempo Ci può stare Attenzione Perché il Modena Si apprezza a fare Il classico gol Che ci va A spezzare Il Completamente L'entusiasmo Eccolo qua No Deve resta Fiorani Deve restare Sì Leggermente Leggermente Per così Perfetto Ragazzi Allora A questo punto Siamo usciti Siamo usciti Attenzione anche Dalla zona Playout Che è il nostro obiettivo Finire questa stagione Senza particolari drammi Senza andare ad affrontare Playout Così in modo da Organizzare La prossima stagione Potrebbe essere Anche in live Ragazzi Il mercato Della prossima stagione Quindi Restate Sintonizzati Detto questo Siamo a 27 punti A più 2 Dalla San Benedettese Per al Pisalò Che stanno a 25 Nel prossimo episodio Invece Andremo A Sfidare Dunque Vispeso Romantova E proprio L'ha appena citata San Benedettese Vispeso Romantova E San Benedettese Allora La San Benedettese E sedicesima L'abbiamo visto Il Mantova Si trova Esattamente Sopra di noi 33 punti E l'altro Era Il La Vispeso Era al settimo posto Va bene Va bene Un episodio Già un po' più Fattibile Rispetto a questo Che comunque Ha visto La vittoria Nonostante tutto Del nostro Ravena Ragazzi Fatemi sapere La vostra Come sempre Sotto nei commenti Un bel like Una condizione Un'iscrizione Soprattutto Perché siamo Vicinissimi Al traguardo Dei mille iscritti Vi ringrazio Per aver visto Il video Fino a questo momento Noi ci vediamo domani Con di nuovo Gameplay Ciao